...non so, con la buona volta Rosario Massimino, faccio vedere principalmente i protagonisti di questa semplice edificazione di un concetto premio, solleva! ...e vede bene, 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 vede bene... ...soprattutto io ho un numero così importante, 10, capitano, quindi la responsabilità davanti a 22.000 persone... ...e della meravigliosa Madrina, il volto del giornalismo sportivo femminile in Italia, intanto un saluto alla Madrina, buongiorno! ...buongiorno, buongiorno, è un piacere per me essere qui, ospite, insomma, di questa bellissima trasmissione, sono molto seguita qui da Sicilia e soprattutto essere io la Madrina! ...cio a Catania e oggi ritorni a Massimino! ...è sempre una grande emozione, ringrazio Luca, Napoli, perché quando mi chiamo per venire a fare una trasmissione io volo, io e Gimignola, perché ieri parlavamo con Luca! ...e ormai sono 16 anni e io sono qui dalla prima edizione, sto invecchiando con questa edizione, ovviamente la causa è nulla per lei! ... ...siamo arrivati ai rigori! ... ... ... ... Poi è finita G! Poi è finita! Poi è finita! Lui ragazzi ha sbagliato? Barbato! Hai sbagliato il rigore? Allora ragazzi ho vinto la Coppa come miglior giocatore e per me è un'emozione perché siamo allo stadio della Catania quindi abbiamo la medaglia e la Coppa La Catania è tutto Poi ci rivediamo alla prossima volta Jimmy Chione, Thomas Pietro e Chiara Spagna Chiara Spagna Eccomi Pa!